Un altro giorno, un altro dollaro. E sono pronta a lavorare. Arrivano già i primi clienti. Alice, guarda questi giocattoli! Ciao, ho visto la nuova bambola. Wow, guarda quella! Inizia lo show! È un po' inquietante. Andiamo? Sì, succede sempre così. Magari stavolta. Se hai bisogno di aiuto, dimmelo. Abbiamo sempre qualcosa per tutti. Eh, cos'è quella? C'è qualcosa dietro di te? Qualcosa che non va. Ciao, amica! Vuoi giocare? Sta lontana da me! Oh, è successo di nuovo. Non mi libererò mai di quell'essere. Beh, è ora di tornare a casa. Forse domani saremo più fortunate. È il mio giorno più bello. Mi sento una favola. Aspetta, le tue unghie. Voglio la bambola. L'ho vista prima io. Sono richiesta. Potrei abituarmici. Ed è tutto grazie a te. Ma dove mi trovo? Beh, prima l'emoginardo, ovviamente. Non succede niente. Sarà rotto. Che strano. Che succede? Oh, accidenti! Sono bella. Questo look mi sta bene. Era tutto un sogno? Sono ancora una nerd. Wow, in questa rivista sono tutte così alla moda. Che fortuna. Magari fossi anch'io così. Oh, interessante. Ma dai! Ragazza mia, fai qualcosa per quel monociglio. Al lavoro con le pinzette. Una foto mi ha appena insultata. Insomma, non è così male, giusto? Forse devo fare qualcosa davvero. Ma cosa? Non ho le pinzette. Oh, il mio astuccio. Forse qui troverò qualcosa di utile. Colla? No. Oh, un pettine per le sopracciglia. No, non va bene. C'è solo una cosa che posso fare. Andare a fare shopping. Wow, guarda quanti prodotti. Sicuramente venderanno le pinzette. Ma dove le tengono? Ah, wow! C'è un sacco di scelta. Queste qui andranno bene. Sicuramente fanno al caso mio. Finalmente dirò addio al monociglio. Prendo queste, grazie. Certo, solo un... Basta, no? No, sono 50 dollari. Per un paio di pinzette. Non ho tutti quei soldi. Ehi, forse posso aiutarti. Puoi usare le monete al posto delle pinzette, sai? Fidati. Ok, ma farà male? C'è solo un modo per scoprirlo. Metti le monetine così e afferra i peli. Così li potrai tirare senza problemi. Meno male che non ci sono altri clienti. Abbiamo finito, direi. Guarda. Wow, fantastico. Grazie. Non c'è di che. Non ci posso credere, ora sei reale. Come hai fatto a diventare una persona? Wendy, smettila di punzecchiarmi, non si fa. Non posso crederci, sei qui davanti a me. Deve essere la cosa più pazzesca che mi sia mai successa. Possiamo farci una foto insieme, sì? Guarda quante belle foto che ho con noi due. Aspetta, davvero sono così in foto? Oh, sì, Wendy, mi dispiace. Senti, non far caso a quelle foto. Prendi questo specchio e guardaci dentro. Non capisco che dovrei guardare qui dentro. Aspetta e vedrai. Chissà dove sta andando. Vabbè, tornerà. Visto che ho uno specchio, intanto mi schiaccio un po' di brufoli. Basta schiacciare ben bene. Oh, che schifo. Meglio spremere anche questo qui. Oh, è esploso. Oh, ne ho uno anche qui sulla guancia. Wendy, eccomi di ritorno. E ho una borsa. Aspetta, ma che stai facendo alla faccia? Mi sto schiacciando i brufoli, non riesco a smettere. Capisco, sai. Forse ho qualcosa di meglio per te che le tue dita. Oh, che cos'è? Sembra uno strano aggeggio. Ok, quindi devo premere questo tasto e mettermelo sulla faccia? Oh mio Dio, mi ha fatto sparire l'acne. Siamo sicure che sia successo davvero o sto sognando? È incredibile, deve trattarsi di magia. No, è solo scienza. È fantastico, continuerò a usarlo. Voglio togliermi tutti quanti i brufoli dalla faccia. Stai facendo un ottimo lavoro, continua così. Grazie tante, bambolina. Ho ancora qualcosa per te. Vorresti provare? Sì, certo che voglio. Proverò tutto quello che mi darai. Lasciami solo usare questa maschera al tè verde. Il mento e il naso sono le zone più problematiche. Grazie, bambola. Ecco la maschera. Non c'è di che. Adesso puoi toglierla comunque. Ottimo. Mi pulirò il viso con questa salvietta. Wow, guarda come ha tolto i punti neri. Incredibile, adesso la pelle è così fresca e sana. L'hai visto? Procediamo. Questo cos'è? Un nastro? Oh, è per le sopracciglia? Cosa dovrebbe fare? Non sarà mica una specie di ceretta, vero? Beh, in un certo senso. Aspetta. Devo solo toglierti il nastro così. Wow, adesso le sopracciglia hanno una forma perfetta. Non ci posso credere. Tutto con del semplice nastro. Grazie, bambola. Sei la mia migliore amica. Ora sì che possiamo farci delle foto. Ho una cliente. Salve. Hey. Cosa voglio? Vediamo. Quella torta, per favore. Ok. Dove mi siedo? Adoro la torta. C'è Alex. Ciao. È un tipo divertente. Speriamo non mi abbia visto. Posso sedermi qui? Scusa, il posto è occupato. Ecco, ho visto. Oh, va bene. Fa nulla. Che cattivo. Ecco. Prendi un'altra fetta di torta. Oh, non lo so. Ancora? Tutto è cominciato con una fette in omaggio. È il giorno più bello di sempre. Oh, no, no, no. Cercavo solo di consolarti un pochino. Wow. Adoro il tuo make-up. Oh, grazie. Mi insegni a truccarmi così. Ti servono un cucchiaio e una pochetta. Stai scherzando, vero? No. Cominciamo. Metti il cucchiaio sopra l'occhio, poi passa l'eyeliner qui intorno al bordo. Il resto puoi finirlo a mano. Semplice e veloce. Ora la forchetta. Tienila a un angolo e passa il make-up tra i denti, vedi? Farà un gran bel effetto. Ora devo soltanto lavorare un po' sul bordo. Aggiungiamo qualche lustrino. Ci stanno sempre bene. E abbiamo fatto. Adesso mi sistemo i capelli. Wow, look fantastico. Mi sento così bella. Grazie. Non c'è di che. Ora vai. Sì. Ciao, Alec. Wow. Gabby, non ti avevo vista prima. Vuoi andare alla festa insieme a me? Oh, divertente. Ma sì, perché no? Ho un appuntamento. Dai, dannati i capelli tutti intrecciati. Wow, la ruota sta girando. È uscita la sposa. Oh, che bello. Vincerò io sicuramente. Sì, certo. Sì, sono già bellissima. La sposa più bella di sempre. Sì, comunque diamoci da fare. Serve del lucida labbra. Non uno qualsiasi, però. Deve lucicare. Ora applico il gloss sulle labbra. Oh, ma dai. Lucida labbra. Tutto qui, dilettante. Userò questo bel rosso scuro. Oh, il velo è così fastidioso. Meglio. Bene, direi che basta così. Che sta combinando lei? Oddio, è un rossetto sui denti. Che orrore. Beh, a fare i suoi io invece metto mano ai miei trucchi. Che belli questi colori. Voglio un look del tutto naturale. Incredibile a tutti quei colori. Ma chi se ne importa? Anche io ho i miei trucchi. Meno colori, ma più belli. Ok, ora con questa spugnetta applico il make-up. Il blu è sempre il colore migliore. Ah, sì, gli occhiali. Ma che succede? Da dove arriva questa polvere blu? Forza, stenditi! Adesso ce l'ho addosso anch'io. Aspetta, tutto questo mi ha dato un'idea. Ma certo, mi serve ancora più blu. Posso dipingermi tutta la faccia così. Tutta di un bell'azzurro uniforme. Oh, comincia già ad asciugarsi molto bene. Ora il collo. E non solo, poi anche la gola. E fin sopra le spalle. Ecco fatto, adesso sono tutto blu. Ora altri colori. Questo viola mi servirà per gli occhi. Ecco fatto tutto il contorno. Adesso applico del colore sul naso. Due linee, così. Ottimo, mi serve il nero. Sarà benissimo col viola. E poi una punta più sottile. Mi disegno delle ciglia più lunghe qui sulla pelle. Ne devo aggiungere anche un po' sul naso. Anche all'interno della narice, in questo modo. Ecco fatto, niente male. Ora mi serve un altro pennello e altro make-up, sempre nero. Lo applico sulle guance e poi sulla fronte. Questo disegno richiede una mano fermissima. E di nuovo mi serve la matita più sottile. Continuo così su tutte le parti dove ho applicato il make-up nero. Ed ecco qui. Adesso quest'altra matita per il contorno labbra. Altrimenti non si vedranno bene col blu. Non devo riempirle tutte, però. Basta calcare i bordi. Adesso il rossetto. Ok, così dovrebbe andare. Che altro mi serve? Ciglia finte. Make-up completato e adesso i capelli. Sono una splendida sposa gotta. Ho una rosa nera. Tieni. Ma che... Non voglio guardare, ma devo... C'è uno zombie, mi mangia, aiuto! Che cretina, mio Dio. Mi tocca anche tranquillizzarla. Smetti di urlare solo make-up, vedi? Oh, ma che ti salta in mente? Mi hai spaventata. Non ci posso credere. Farsi un trucco da sposa così. Sei proprio stra... Non ci posso credere.